Lasciate che i bambini vengano a me. 20 dicembre 1973. Figli di Letti e cari, sia pace e gioia ai vostri cuori. Sono Gesù, vostro Divin Maestro. Desidero farvi conoscere la mia volontà perché nella ricorrenza del mio giorno natalizio mi abbiate a presentare doni graditi. Quando vivevo sulla terra, nei tre anni della mia vita pubblica, ebbi più volte l'occasione di parlarvi del grande amore per i bambini e ve li diedi come modello, fino a dirvi, se non sarete come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Desiderando che fossero preservati dai pericoli, vi dissi, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli. Meglio sarebbe per lui mettersi una macina da mulino al collo e gettarsi in mare piuttosto che scandalizzarli. Volli anche dirvi che i piccoli vanno aiutati e non trascurati. Quando vi dissi che sarete ricompensati anche di un bicchiere d'acqua dato a un piccolo nel mio nome. Ciò che vi dissi allora, ripeto incessantemente, specie in questi giorni in prossimità del Natale. Si dice che il Natale è la festa dei bambini, ma non se ne capisce il vero significato. Si pensa a far sperpero di doni, procurando ad essi giocattoli o cose inutili e non si pensa al significato profondo di una festa, che ricorda un Dio che si umilia fino a nascere in una grotta, in tutto simile ad un comune bambino. Non si pensa di far conoscere ai bambini che io mi feci piccolo per insegnare anche a loro ad essere buoni. Il perché della mia nascita, che per i grandi può essere un mistero inspiegabile. Così può essere chiarito a chi è in grado di capire. Io mi feci piccolo per elevare i piccoli e renderli figli di Dio. Vorrei che in questo Natale voi portaste accanto a me molte anime innocenti. Che mi donino quell'amore che gli uomini mi negano. Ecco che ancora, come duemila anni fa, vi ripeto di cuore l'invito. Lasciate che i bambini vengano a me. La semplicità della vita e l'umiltà dei pensieri, non disgiunte dalla purezza, fanno anche degli adulti, dei bambini cari al mio cuore. Ecco che il mio invito si fa ancora più pressante affinché, ridiventati bambini nello spirito, siate tutti degni di avvicinarmi. Sono bambino nel presepio, ma è nell'Eucaristia che mi offro vivo e vero. Sono lì per nutrire i miei bambini e desidero che mi chiedano con insistenza il pane degli angeli che dona la vita eterna. Vorrei che i miei figli fossero affamati di me. Che pensassero al Natale come alla grotta di Betlemme in cui il pane di vita viene a rallegrare i cuori. Vorrei che la preparazione al Natale coincidesse con la preparazione alla Santa Comunione. Nel modo più perfetto. Soltanto nel desiderio vivo di possedermi io possiedo voi interamente così da fare una vera unità. Desiderio. Amore. Umiltà. Ecco che così voglio che mi portiate. Che avverrà in questo giorno natalizio in cui gli uomini, almeno per un giorno, pare siano più buoni? Vi trasformerò. Accanto al mio presepio, i bambini ben preparati verranno a dirmi il loro affetto. Ed io come nelle vie della Palestina li benedirò. Voi dite che il buongiorno si vede dall'aurora. Portatemi i vostri bambini. Essi sono all'aurora della vita. Se santificherete questo primo incontro con me, se mi farete conoscere, i vantaggi saranno anche vostri, i frutti li raccoglierete voi. Ai vostri bambini, educati alla mia scuola, insegnerò il rispetto e l'amore per i genitori, e l'aiuto che voi mi darete per crescerli secondo il mio cuore vi sarà ricambiato in quell'aiuto, anche materiale, che molte volte viene a mancare nella vecchiaia. Certamente è difficile il cammino della vita. C'è sempre qualcuno che, o in buona fede come gli apostoli o per cattiva volontà, cerca di allontanare da me i bambini e le anime, ma sono ancora io che dico con autorità, lasciate che i bambini vengano a me, poiché di essi è il regno dei cieli. Vi è stato detto che gli angeli dei bambini vedono il Padre che sta nei cieli. Essi sono un mezzo per unire gli uomini a Dio. La scala, su cui Giacobbe vide angeli che salivano e scendevano, è sempre di attualità. Accanto alla mia culla, sia essa nelle vostre chiese, in questo luogo o nelle vostre case, i miei angeli ancora, come sopra la grotta di Betlemme, esercitano la loro funzione. Danno gloria a Dio e portano pace agli uomini semplici. Vivete queste verità e fatele capire ai vostri bambini. Così il Natale sarà santificato e segnerà l'inizio di cambiamenti radicali. Sarà per i bambini la strada maestra, seguendo la quale potranno assomigliare a me, il loro Gesù bambino fatto piccolo per amore. Figli, vi benedico tutti e vi ringrazio della particolare devozione che mi dimostrate.